Una rete di tramvie che attraverseranno tutti i comuni dell'area fiorentina per collegare il capoluogo toscano con Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Scandice e Bagnarripoli, passando da punti strategici come l'aeroporto Vespucci e l'ospedale di Careggi. È questo il futuro delineato dall'intesa siglata oggi tra il presidente della regione toscana Enrico Rossi, il sindaco di Firenze Dario Nardella e i primi cittadini dei comuni che verranno attraversati dalle tramvie, l'accordo del via alle gare di appalto per la progettazione dell'estensione della rete tramviaria. La cura del ferro si è dimostrata giusta per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini inquinando di meno, muovendosi in un modo più leggero, meno impattante, anche meno estressante e questa cura noi la vogliamo continuare in direzione del polo scientifico tecnologico di Sesto e anche in direzione di Campi Bisenzi. Il governo ha messo 100 milioni, noi abbiamo fatto uno sforzo straordinario, ne mettiamo altri 80 e proseguiremo poi concretamente con i lavori dopo la progettazione su cui di nuovo la regione ha stanziato 2 milioni e mezzo perché venga fatta. Inizieranno i lavori, a nostro parere devono iniziare non oltre il 2019 perché si tratta di fondi che dovranno essere rendicontati entro il 2022. L'accordo prevede il completamento della linea 1 Firenze Scandicci della linea 2 tra Santa Maria Novella e l'aeroporto e della 3.1 da Santa Maria Novella a Careggi ma anche la progettazione e la realizzazione delle estensioni della tramvia Piagge Campi Bisenzi e aeroporto polo scientifico di Sesto Fiorentino. Per quanto riguarda le tempistiche i lavori inizieranno nel 2019 per la tratta Leopolda Piagge e nel 2020 per quella verso l'aeroporto. Su entrambe le tratte i lavori e i collaudi dovranno essere terminati entro il 2022. L'intesa prevede poi la prosecuzione degli studi per la realizzazione delle estensioni della tramvia verso Bagnaripoli e Scandicci. Noi diamo un volto definitivo al sistema dei trasporti non solo della città metropolitana di Firenze ma di tutta la Toscana visto che la nuova tramvia con le nuove linee si salderà con il sistema del trasporto ferroviario. Ogni giorno abbiamo 600.000 cittadini che da tutta l'area regionale convergono verso la città. Noi dobbiamo dare loro delle risposte molto concrete in termini di tempi certi di spostamento, costi, che siano costi sostenibili e mezzi. Se vogliamo che i nostri cittadini utilizzino i mezzi pubblici dobbiamo investire sulle tramvie. Abbiamo già realizzato la linea 1, le 2 e la 3 sono in fase di costruzione e vogliamo realizzarle nei 4 anni che abbiamo detto, quindi quasi la metà del tempo impiegato per la linea 1. Mi auguro che per le prossime linee si vada ancora più rapidamente.